Salve a tutti, oggi volevo recensire un liquido verso il quale nutrivo tante aspettative della Flavorart che si chiama legno di quercia, legno di quercia. Ebbene questo legno di quercia non sa di niente, da solo non sa di niente, potete lasciarlo maturare 50 anni, sempre di niente sa. Sicuramente è un aroma da mischiare ad altri aromi, tabaccosi più che altro, aggiunge un attimo di dolcezza affumicata ai liquidi, svapato da solo, quindi se ne fate una boccetta con l'aroma appunto da solo, non sa di niente, di niente. Io pensavo di trovare, come dire, un astio legnoso in questo liquido, una, come dire, il sapore di corteccia ruvida, invece niente, non sa di niente. Che vergogna Flavorart, che vergogna, vergogna!